Salve a tutti, Walter D'Amato, Autocentro in Balduina. Oggi proviamo la nuova Q4. La vettura che stiamo vedendo è un allestimento Business Advanced in un colore particolare nuovo per Audi che si chiama Grigio Selce. È una vettura in questo caso 50, quindi a 299 cavalli con due motorizzazioni elettriche. È disponibile anche in versione 35 da 170 cavalli, 40 da 200 e 45 da 265 cavalli, sempre 4 ruote motrici. Parliamo delle cose importanti. È completamente elettrica, è una vettura di accesso in gamma Audi per le vetture elettriche. Abbiamo fino a 525 km di autonomia che ci permettono di goderci in viaggio senza grandi problemi di uso. Parlando delle novità. Abbiamo dei fari Matrix, per la prima volta in Audi personalizzabili nella firma. E altra novità esclusiva di questa vettura sono l'IDAP Display in realtà aumentata. Ovviamente l'estetica di questa vettura è studiata non solo per la bellezza ma anche per l'efficienza, ovviamente aerodinamica, importantissima su una vettura elettrica. Anche piccoli particolari come questo Splitter che sono stati studiati per aumentare l'autonomia, in questo caso 5 km semplicemente con quel disegno. Ovviamente è un Audi ed è una vettura elettrica, quindi abbiamo tutte le features tipiche di un Audi insieme con una vettura elettrica.